Svelata quest'oggi la nuova, la nuovissima macchina del pilota abruzzese Riccardo Ponzio, la macchina di noire Jaguar R3, già emozionato per questa nuovissima avventura? Sì, salire su una macchina in Formula 1 per la prima volta è sempre emozionante, ancora di più salire su una macchina di questo valore storico che è stata portata a podio a Monza, a Irvine, quindi poter entrare nel suo abitacolo è già di per sé un onore. Sarà un campionato meglio, molto difficile, molto intrigante, quali le aspettative da parte di Riccardo Ponzio? Le aspettative sono alte, però le prime gare dobbiamo prenderle per imparare la macchina, non solo io come pilota ma anche i miei tecnici, gli ingegneri che ci lavorano e che si stanno dedicando a questo progetto, però dopo i primi chilometri punteremo sicuramente a stare lì davanti. Campionato che inizierà quando? Fine marzo, prima gara del Mugello, gran premio del Mugello, 27-29 marzo. Quindi si inizia subito nel nostro paese, in Italia, ovviamente le tappe successive in giro per l'Europa, ecco se ci puoi dire qualcosa in più anche su questo nuovissimo campionato a cui parteciperanno anche automobilisti molto importanti a livello europeo. Sì, campionato Hockenheim, andremo ad Hockenheim in Germania, ad Assen in Olanda, Bernou, torneremo in Italia, ad Imola e a Misano. Il nostro principale competitor sarà a bordo di una Toro Rosso del 2006, un austriaco, non vediamo l'ora di competere con lui. Com'è nata quest'idea di utilizzare una Jaguar Redrepo, questo tipo di campionato? Parte due anni fa questo progetto, sono stato coinvolto in qualità di pilota e sono più che emozionato nel vederlo realizzato quest'oggi.